È ancora sotto shock, non si rende conto di nulla, forse nemmeno di aver tolto la vita alla sua bambina di tre anni e mezzo, Bilal Mial, l'operaio bengalese di 39 anni che martedì scorso ha ucciso la figlia e ferito il figlio a Levane, non è stato in grado di sostenere l'interrogatorio di garanzia che si sarebbe dovuto svolgere questa mattina in videocollegamento. Il suo legale, l'avvocato Nicola Detti, così dopo un colloquio privato, ha chiesto che venisse rinviato. Il PM Laura Taddei non si è opposta e così il GIP Fabio Lombardo ha ritenuto valido il legittimo impedimento limitandosi alla convalida del fermo. La procura ha chiesto per l'uomo accusato di omicidio e tentato omicidio aggravato dal vincolo di parentela un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giudice si è riservato, la sua decisione è attesa per domani. Il 39enne attualmente si trova nell'ospedale delle sue rublate di Firenze, dopo che nella notte tra mercoledì e giovedì ha dato in escandescenze e si sono così rese necessarie altre cure mediche. Intanto, resto scuro, il movente dell'atroce delitto. La moglie e il figlio, nei giorni scorsi, sono stati ascoltati dagli inquirenti. Il ragazzino di 12 anni avrebbe raccontato di un raptus di foglia del padre che, senza alcuna spiegazione, avrebbe afferrato un'arnese da cucina e si sarebbe scagliato contro la piccola. Il 12enne sarebbe così rimasto ferito nel tentativo di difendere la sorellina, poi avrebbe cercato aiuto in casa dei vicini, riuscendo così fortunatamente a salvarsi. Il padre, infine, ha tentato il suicidio gettandosi dentro ad un pozzo. La moglie ha parlato agli inquirenti di problemi di salute del 39enne, pressione alta e mal di testa, ma non di preoccupazioni per la situazione economica. Resta infine ancora l'attesa per l'autopsia sul corpo della bambina, che era stata fissata per ieri, ma è che è slittata per problemi di notifiche.